Ciao ragazzi, torniamo in diretta per la preparazione di un nuovo ordine. Innanzitutto buon lunedì, se buon si può dire. Questa è un orologio fastidio, la collezione Giorgia, è una di quelle che abbiamo visto di più in questo periodo. Ciao Giovanna! Sta andando davvero moltissimo, perché in effetti sono dei modelli davvero carini e comunque particolari con il fatto del quadrante che... Ricopre il cinturino passante. Cinturino che vi ricordiamo essere in pelle. Molto carina, anche la dimensione piccolina, non invadente. Iniziamo la preparazione. Come sempre mettiamo l'orologio in orario. Sono le... Sono l'1,58. Ok. E qua, intanto vi faccio vedere la scatolina Fossil originale e la garanzia che andiamo a compilare. Ciao Claudio! Come sempre vi ricordiamo che il Cronoshop è un rivenditore ufficiale della collezione Fossil, pertanto tutti i nostri prodotti saranno accompagnati non solo dalla confezione originale, ma anche dalla garanzia valida per due anni. Come sempre vi ricordiamo. Come sempre vi ricordiamo. Come sempre vi ricordiamo. Grazie a tutti.